ed ecco adesso il figlio migliore di mamma roma 20 21 è con noi massimiliano coccia giornalista dell'espresso e il motivo per cui è stato scelto tra come figlio migliore è proprio quello di aver promosso e portato poi con una campagna a termine un progetto importante per la nostra città sì e diciamo l'idea è nata dalla mobilitazione internazionale per la morte di george floyd il movimento black lavai mater ha invaso le piazze della nostra città di roma e quindi da questa suggestione dopo un blitz via dell'ambaradam è nata l'idea di intitolare la fermata della metro c che sorgerà tra piazzale ponio e via dell'ambaradam a giorgio marincola proprio per creare un lavoro di riconversione urbana giorgio marincola partigiano nero nato in somalia e poi appunto partecipato ai gruppi del partito d'azione per la liberazione di roma e poi sostanzialmente si è spostato in val di fiemme dove purtroppo ha trovato la morte nell'ultimo eccidio nazista e la sua storia riscoperta grazie al lavoro anche del collettivo wuming e del nipote antar marincola nel corso del tempo ha un po attraversato la storia già di roma era stata intitolata anche una via una via periferica insomma il quartiere di cesano noi abbiamo fatto in questa battaglia abbastanza garibaldina mi viene da dire perché è partita molto diciamo in in modo spontaneo e poi è diventata realtà insomma e adesso appunto la la fermata della metropolitana che era a via dell'ambra damma sarà appunto nominata a giorgio marincola avremo questa fermata grazie mille massimiliano coccia grazie a voi